Mi dispiace, per voi questo gioco finisce qui. Ballando con le stelle, coppia eliminata Chi è la coppia eliminata del 5 novembre di Ballando con le stelle? Prima di tutto c'è da dire che è stata una serata pazzesca, piena di colpi di scena e non solo. A stravincere è stata la coppia formata da Rosanna Banfi e Simone Casula, sono loro a balzare al primo posto in classifica grazie al tesoretto che ha assegnato loro Rossella Erra, prendendo metà dei punti, 25 quindi, dal tesoretto totale, di 50 punti. Non solo, l'altra metà del punteggio, per volere di Alberto Matano, è andata invece alla coppia Luisella-Costamagna-Pasquale-La Rocca. Tuttavia, il conduttore Rai per evitare erogne con la giuria, ha chiarito che la ragione dell'assegnazione del tesoretto non è stata l'infortunio che ha creato problemi a Luisella nelle ultime settimane. Alla fine della serata.